Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Maltrattamenti in una casa di riposo a Fano La scoperta è stata fatta dai carabinieri dopo una segnalazione Nei guai è finita un'operatrice sociosanitaria di 62 anni e una sua collega più giovane Una 62enne dipendente della residenza fanese per anziani Cante di Montevecchio è stata sospesa dal pubblico servizio in quanto ritenuta responsabile di maltrattamenti verso i degenti della struttura affidati alle sue cure Le indagini condotte congiuntamente dai militari del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Fano sono state avviate a seguito di alcune segnalazioni riguardanti alcuni comportamenti della donna nei confronti degli anziani Le intercettazioni ambientali hanno permesso di costruire e documentare ben 16 episodi distinti ad opera della Oss di alcuni compiuti alla presenza in concorso con una collega di reparto più giovane la cui posizione allo Stato è stata ritenuta più marginale dando vita nei suoi confronti alla sola denuncia a piede libero Dai primi accertamenti dei carabinieri è risultato che la donna era stata assunta nel 2006 ed è risultato aver subito svariati provvedimenti disciplinari per fatti analoghi L'ossa detta alle mansioni di accudimento degli anziani rivolgeva continuamente espressioni ingiuriose, indinigranti e minacciose aggredendo gli anziani in più occasioni sia verbalmente che fisicamente con strattoni I maltrattamenti riscontrati attraverso riprese video hanno evidenziato l'umiliazione, violenza fisica e psicologica che rendevano di fatto intollerabile la vita degli anziani affidati alle sue cure Gli atti di violenza, sia verbale che fisica, avvenivano spesso nei pressi di camere di degenza degli ospiti della struttura ma in alcune occasioni anche nei locali comuni adibiti allo svago e alla consumazione dei pasti Gli anziani sono risultati tutti accomunati da una situazione di grande fragilità fisica e morale Entrambi le donne risponderanno di maltrattamenti La 62enne, in attesa di giudizio, resterà sospesa dal servizio per sei mesi Chiunque tornerebbe convertito dopo due anni È il commento di Francesca Fumagalli, la mamma di Silvia Romano la 24enne tornata in Italia due giorni fa dopo 18 mesi di prigionia in Kenya, in Somalia Usate il cervello, ha aggiunto la madre ad un giornalista che l'ha aspettata sotto casa Abbiamo bisogno di pace Raggiunta al telefono dal Tg3, Francesca ha poi ribadito di aver preso le distanze dalla onlus fanese Africa Milele Per la quale sua figlia ha lavorato in Africa Ma ora c'è una procura che indaga, ha detto Intanto il profilo Facebook di Silvia Romano è stato chiuso A Milano invece è stata aperta un'inchiesta per gli insulti e le minacce di morte ricevute anche sui social Inoltre mentre le forze dell'ordine sorvegliano il palazzo in cui abita Silvia In quarantena obbligatoria la prefettura sta valutando ulteriori misure di protezione Venerdì pomeriggio in seguimento tra le vie di Fano Tra un'auto della polizia e un furgoncino guidato da un trentenne fanese che è poi stato arrestato Un trentenne fanese disoccupato e senza precedenti è stato denunciato dagli uomini del commissariato di Fano Per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Condannato dal giudice per direttissima a otto mesi di carcere con obbligo di risarcimento L'uomo venerdì della scorsa settimana verso le 15.30 Si è reso protagonista di un rocambolesco in seguimento per le strade della città Durato oltre un mezz'ora ingaggiato con un'auto civetta del commissariato fanese Con a bordo due agenti in borghese e che si è sviluppato tra Centinarola, Bellocchi e altre zone di Fano Il tutto è partito allora quando il trentenne a bordo di un furgoncino Caddy Ha pensato bene di saltare in velocità una fila di auto in coda lungo la Flaminia Nei pressi della rotonda di Centinarola Tra le auto pazientemente ad aspettare c'era anche la pattuglia in borghese della polizia Che non ci ha pensato su nemmeno un secondo e si è lanciata all'inseguimento dello spericolato automobilista Facendosi bene riconoscere con segnali sonori e visivi ed esibendo tanto di paletta d'ordinanza Ma l'uomo pur accorgendosi che alle calcagne c'era un'auto della polizia Non ha minimamente accennato a fermarsi Anzi, i tentativi di affiancare il furgoncino da parte degli agenti per bloccare il fugitivo Sono stati ostacolati dal guidatore con manovre spericolate Tentando di mandare fuori strada l'auto degli agenti I quali con non poca fatica in una strada del quartiere di Bellocchi sono riusciti a fermare il mezzo Ma non è finita qui Uno dei due agenti ha rischiato anche di essere investito e travolto dal trentenne Che per sfuggire alla cattura ha speronato l'auto E tentato di travolgere il malcapitato agente Che con prontezza di riflessi però e sangue freddo Gettandosi a terra di lato Ha schivato il muso dell'auto Ma così l'inseguimento è ripreso Solo l'esperienza e la professionalità dei due agenti ha messo fine a tutto questo Senza che nessuno si sia fatto male seriamente In un vicolo sterrato nel quale il caddy è stato bloccato e l'uomo arrestato Sabato poi c'è stato il processo per direttissima al tribunale di Pesaro Dove il fuggitivo, sanzionato più volte in passato per violazioni al codice della strada E di recente anche per aver violato più volte le norme imposte dal governo sugli spostamenti per il coronavirus Ha subito la condanna del giudice Oltre ora a dover risarcire il danno arrecato all'auto della polizia resa inutilizzabile E adesso andiamo a Pesaro perché vi facciamo vedere un filmato che ha girato l'assessore Enzo Bellone Che si riferisce ad un incendio che è divampato nel pomeriggio intorno alle 14.30 All'altezza del parco Miralfiore Dove qualcuno, probabilmente qualche ragazzino annoiato Ha dato fuoco ai pappi dei pioppi Che sarebbero i pollini dei pioppi Quella neve che esce appunto da queste piante E praticamente ci sono stati questi due episodi Come vedete queste sono le immagini di via dell'Acquedotto vicino al fiume Questo è successo alle 11.45 Mentre oggi intorno alle 14.30 All'altezza del parco Miralfiore Ma ci sono stati altri due episodi del genere A distanza di 30-40 metri Per intenderci sempre lato fiume Ma dietro al parco Miralfiore Quindi sono stati appiccati questi incendi In due o tre punti diversi A distanza di 30-40 metri l'uno dall'altro Queste sono le informazioni che abbiamo ricevuto Proprio in questo momento E che si riferiscono alle immagini Che vi stiamo mostrando Girate appunto, come ricordo Dall'assessore Enzo Velloni La gente si diverte con poco E fa i danni grossi Avevano messo a segno 63 furti Tutti all'interno di automobili Sono stati arrestati marito e moglie Tra i colpi anche nelle province marchigiane Che sono state prese di mira Tra la fine del 2018 e l'agosto dello scorso anno Ci sono colpi messi a segno ad Ancona 29 episodi Macerata, 20 furti E Pesor Urbino, 4 colpi Tutti a Fano La donna di 35 anni fungeva da palo Mentre il marito di 43 anni Si introduceva nelle vetture Asportando borse, portafogli, cellulari E carte di credito I due piemontesi ma residenti ad Ancona Secondo il PM Lionello Colpivano in particolare Nelle vicinanze di scuole, cimiteri Capanni agricoli e parchi I militari hanno eseguito misure di custodia Cautelare in carcere Emesse dal CIP Carlo Masini Per concorso in furti aggravati E in debito utilizzo di carte di credito Si è alleggerito ancora nelle Marche Nelle ultime 24 ore Il carico di ricoveri per coronavirus Nelle strutture ospedaliere marchigiane I pazienti ricoverati sono scesi da 305 a 254 Quelli in terapia intensiva da 28 a 24 E in semi intensiva da 77 a 73 In calo anche i ricoverati in reparti non intensivi Da 151 a 108 Stabili i degenti in area post-acuzzi E 49 Mentre cresce il numero di persone ospitate In strutture territoriali Da 177 a 184 Sono questi i dati dell'ultimo aggiornamento del Gores I guariti dimessi nella regione aumentano Da 2352 a 2391 Il totale dei decessi nelle Marche finora è di 969 persone Mentre quelle contagiate dal Covid-19 sono state 6.568 Di cui attualmente 2.954 sono in isolamento domiciliare Gli isolati in casa per contatti con contagiati Sono 5.829 Di cui 2.413 con sintomi E 749 di questi sono operatori sanitari Tra l'altro questo è un dato in costante discesa I marchigiani che hanno passato invece un periodo in quarantena Dall'inizio dell'epidemia Sono 30.390 E a Pesaro duro scontro In consiglio comunale Tra il consigliere Baiocchi di Fratelli d'Italia E il sindaco Matteo Ricci Il consigliere accusa il primo cittadino Di essere responsabile dei contagi in città E della gestione della comunicazione Dell'ormai famoso no panico Mentre Ricci replica Soltanto sciacallaggio Solamente al contagio di una persona Primo non avrei dormito la notte Secondo mi sarei dimesso un minuto dopo Cosa che lei Non avendo coscienza e morale Non ha fatto e non farà Quindi sono io che glielo dico Perché lei ha Lei sindaco mi ascolti Lei ha contravenuto Lei regoli le parole Avvocato regoli le parole quando parla Io l'ascolto Lei regoli le parole Lei regola le parole Lei regola le parole Infatti parla così perché Perché è nel video Perché altrimenti non parlerebbe neanche così Perché è un codardo che si Che si nasconde dietro il video Toni accesi ieri durante il consiglio comunale di Pesaro Dedicato all'emergenza Covid-19 Oggetto dello scontro è stato il comportamento sostenuto dal sindaco Ricci Che secondo il consigliere di centrodestra Nicola Baiocchi È venuta a mancare una profonda responsabilità politica A fronte dei numeri elevati dei contagi e dei morti in città Durante il periodo emergenziale Il consigliere critica l'operato di Ricci Anche sulla presentazione del brand No Panico E sulla manifestazione incentivata dal comune Per l'accensione delle luminarie Baiocchi rivendica anche il comportamento Del governatore delle Marche Ceriscioli Per aver chiuso in precedenza 13 ospedali e ridotto i posti letto Prima di passare una fase 2 È necessario valutare quello che non è andato E quello che non è andato bene Quello che è successo Le mancanze che secondo me ci sono state Da parte di tutta una gestione generale regionale E in primis anche del comportamento negligente Tenuto dal nostro sindaco Io ho chiesto che venga fatta chiarezza E non penso che chiedere che venga fatta chiarezza Sia un insulto o sia una richiesta assurda Perché si svolge politica Io ritengo che ci siano delle profonde responsabilità organizzative Nell'ambito di Marche Nord La gestione regionale Di tutto ciò che è stato la gestione dell'emergenza Per quanto riguarda il sindaco di Pesaro Non mi dispiace perché sono stato pesantemente insultato Interrotto da sindaco senza essere autorizzato Per poi scagliarsi contro di me Con una violenza che sinceramente non ho capito La risposta di Ricci non si è fatta attendere Accusando Baiocchi di essere uno sciacallo Per le cose che ha detto Sciacallo Lei è uno sciacallo Lei è uno sciacallo Lei è uno sciacallo Che dal primo minuto ha cercato di sciacallare Su un dramma storico di questa città Sciacallo Le accuse del consigliere di centrodestra Sono state disapprovate dai consiglieri comunali di maggioranza A partire da Massimiliano Amadori Luca Pandolfi e Anna Maria Mattioli Che ha rimproverato Baiocchi Di avere detto al sindaco Di avere sulla coscienza 500 morti Altro attacco al sindaco È venuta da Giulia Marchionni Fratelli d'Italia Il quale rimprovera il primo cittadino Di non aver utilizzato al meglio Sin da febbraio La comunicazione attraverso i cartelli Sull'utilizzo delle mascherine Con i propri cittadini Secondo Marchionni Si sarebbero evitati da subito Meno decessi E rimaniamo a Pesaro Perché sempre il sindaco Ha oggi rinnovato Gli appelli Ai cittadini Alla cautela E alla prudenza In questi giorni Serve la responsabilità Di ognuno Dice Altrimenti Rischiamo di compromettere Non solo l'estate Ma tutto il 2020 L'invito di Ricci Alla disciplina Vale a maggior ragione In vista del 18 maggio Per la riapertura Di alcune attività commerciali Da lunedì Precisa Verranno intensificati I controlli Sulle attività economiche Oltre che sui negozi Di vendita al dettaglio Verrà concessa La possibilità Di ottenere Suolo pubblico Gratuito A tutte le attività Che hanno bisogno Di spazio Per garantire sicurezza Sul futuro Ricci insisterà Sulla bicipolitana E mobilità sostenibile Accelerando Sui parcheggi Scambiatori Dopo le misure Di distanza E di sicurezza In spiaggia Annunciate ieri Dalla regione Marche I bagnini Iniziano a sistemare Le loro concessioni Balneari Ma ci sono ancora Molte cose Che aspettano Di essere chiarite Per i bagnini È ancora presto Per poter tirare Le righe in spiaggia Per appiantare I supporti Degli ombrelloni Il protocollo Sicurezza Approvato dalla giunta Ceriscioli Di ieri Contenente misure E distanze Deve ancora ricevere Il sugello Del premier conte Era atteso Per la serata di ieri Ma è slittato Ancora alle prossime ore E quindi questa mattina Ombrelloni parcheggiati Nei depositi Dei concessionari Che attendono Anche altre direttive Per poter pianificare La loro attività estiva Diciamo che per loro Volendo restare In tema nautico La nebbia Non si è ancora Diradata del tutto Ed altri pensieri Affollano Le loro menti Oltre a quelli Sulla direzione Dei lavori Diciamo che le misure Almeno per quanto riguarda Le misure Fra ombrelloni Possiamo essere soddisfatti Vista la situazione E quindi comunque Provare di salvare Questa stagione Ovviamente Comunque con queste misure Abbiamo intorno a un 40 Abbondante per cento In meno di lavoro Perché saranno 40 per cento In meno di ombrelloni Rispetto al 4 metri E mezzo Per 5 Che era all'inizio Cioè questa è una gran vittoria Sempre sperando Che comunque Questa bozza regionale Che era stata fatta Dalla nostra associazione Bagnini Che è stata approvata La regione Venga poi Comunque definitivamente Approvata anche Dal governo Perché stiamo aspettando Questo adesso Sulle regolamentazioni Del bar Noi rimaniamo sempre Come il discorso di bar Per cui ancora Molte cose Ci devono far sapere Bisognerà vedere In quale maniera Cioè le distanze Dei tavoli Le distanze Le distanze Fra le persone Fra le sedi I passaggi So che in regione Hanno studiato anche Il servizio all'ombrellone Per cui tutto È valutabile A seconda di quello Che ci diranno Che possiamo fare Ad esempio adesso Abbiamo un grosso problema Con il discorso dei gruppi Perché anche i gruppi Per quanto È ovvio Che in un ombrellone Più di un top persone Ci possano stare Ma sai i gruppi Si organizzavano sempre Almeno in sei In sette Poi ovviamente Si gestivano l'ombrellone E adesso Tra il discorso Sanificazione eccetera È un po' più complicato Quindi comunque Anche su questo Stiamo Stiamo cercando Di Di prendere Dei rimedi Che siano Che Possano consentire Anche a Non dico numerosissime Perché gli assembramenti Ormai non si possono più fare Però anche ai piccoli gruppi Di organizzarsi Per venire al mare Magari anche dando a loro La possibilità Di gestire Il massimale Di persone Che ci siano Sotto l'ombrellone Comunque vada Possiamo dire Che sarà un successo Chi potrà permetterselo 10,5 metri Quadrati di spiaggia A disposizione Ce l'avrà Anche se con tutte Le misure E precauzioni Possibili Ma che stagione sarà Quale sarà il clima L'atmosfera Che si vivrà Sulle nostre spiagge In tutta Italia Solito clima Festaiolo O le limitazioni Taglieranno le ali Alla voglia di svago Lo sapremo Solo vivendo Ma che sarà Una stagione Anomala Questo è fuori Di dubbio Cercheremo di essere Il più efficienti possibile Credo che anche Gli altri colleghi Pensino a questo Però sarà comunque Una stagione difficile Abbiamo bisogno Della collaborazione Anche della gente Perché comunque Per il distanziamento Queste cose qui Ognuno deve fare La sua parte Noi ci attiveremo Per quanto riguarda I nostri compiti Però anche la gente Che viene Deve rispettare le regole Perché altrimenti È tutto tempo perso E speriamo Insomma di riuscire A passare questa stagione E che la cosa Finisca il primo Possibile In modo di ritornare Tutti alla normalità E poterci godere Tutto Senza tutte queste regole E quant'altro Intanto lunedì Potranno riaprire Anche parrucchieri Ed estetiste Attendevano questo momento Da oltre due mesi Lunedì prossimo 18 maggio Anche l'estetista E i parrucchieri Potranno riaprire L'attività Sono da tante settimane Che ci chiamano Chiedono costantemente Quando sarà il giorno Della riapertura Perché comunque Tutti hanno bisogno Di un parrucchiere O di un estetista Le saracenesche Tornano a rialzarsi Nelle marche Grazie all'ok del governo E ai protocolli Della regione Che dettano le misure Anticontagio Da rispettare Tra le regole comuni L'utilizzo di guanti E mascherine Gel igienizzanti E locandine informative Affisse in posti In posti ben visibili Inoltre Clienti Solo su appuntamento Distanze di sicurezza Niente tavoli Cuscini E riviste In sala d'attesa Dove potrà rimanere Soltanto una persona Abbiamo acquistato I gel igienizzanti Per le mani E per il nostro lavoro Ci siamo muniti Di mascherine Guanti E visiere Per lavorare Magari quando La vicinanza È molto poca Come riuscirete A dividere gli spazi? Allora Qua abbiamo Cinque posti Lavoro E comunque Vanno tutti Un po' alternati Una cliente La mettiamo qua Una cliente Comunque Visto che ci deve essere Un metro e ottanta Di distanza La faremo Accomodare In questa postazione Qua E ce n'è un'altra Qua dietro Di conseguenza Comunque Sono tutte distanzate L'una dall'altra Le disposizioni Prevedono anche L'applicazione Sul pavimento Di scotch colorato Per delimitare Gli spazi E le distanze Minime Di un metro e ottanta Lineare L'obbligo Di sanificare Gli ambienti E di sterilizzare Gli strumenti Dopo ogni utilizzo Dopo l'utilizzo Delle spazzole Le mettiamo In questo Sterilizzatore Che è praticamente Uno sterilizzatore Germicida Giusto per togliere Magari A livello blando Un pochino Di Diciamo Il contatto Che c'è stato Con l'altra cliente Poi Bastano Dieci minuti Dopo Per altri dieci minuti Le mettiamo In questa vaschetta Che all'interno C'è dell'acqua E c'è una polvere Che questo qui È un paracetico Che serve proprio Per andare A sterilizzare E a togliere Tutti i germi Sia del coronavirus Oppure magari Di altri germi Misure aggiuntive Sono previste Poi per i centri estetici Sarà necessario Evitare gli assembramenti Tra un appuntamento E l'altro Bisognerà lasciare Almeno 20 minuti Per sanificare Cabine Lettini E attrezzature varie Si richiede poi L'utilizzo Di soprascarpe Camici Teli E accessori monouso La cura delle mani Sì Abbiamo preso anche Il plexiglass Per le mani Per la sicurezza Della cliente Ma anche per Per me Per essere più Tranquilla Ecco Siete emozionati Per questo ritorno Tantissimo Tantissimo Non vedo l'ora Sono molto Veramente molto contenta Le clienti Mi hanno dato Tanta soddisfazione Anche durante la quarantena Mi hanno chiamato Ho chiamato io A loro E quindi Non vedono l'ora E la giunta comunale Di Fano Dice sì Alla possibilità Di concedere Maggior spazio pubblico Ai locali commerciali Al fine di agevolare La ripresa economica Dopo il lockdown La delibera Contiene alcune Deroghe Ai regolamenti comunali Sull'arredo urbano Del centro storico Ampliando La possibilità Alle attività Di lavorare All'esterno Per agevolare Il rilascio Delle concessioni È stata prevista Una modalità Di struttoria Semplificata La delibera La cui operatività Si estende Fino al 31 dicembre Il prossimo Sarà presentata Nel consiglio comunale Del prossimo 19 maggio Per la definitiva Approvazione E adesso Torniamo a parlare Invece del verde pubblico Perché dopo le tante lamentele Che arrivate alla nostra redazione Il servizio di ieri Oggi abbiamo intervistato Il presidente di Aset Paolo Reginelli Il quale ha detto I lavori sono ripartiti Presto Arriveremo anche in periferia Aset S.p.a. non si è mai fermata Nonostante l'emergenza coronavirus Lo assicura il presidente Dell'azienda Paolo Reginelli Che ricorda alcuni Dei servizi garantiti Negli ultimi mesi Il più importante È quello per l'igiene pubblica Dedicato alla raccolta domiciliare Dei rifiuti Previsto per chi ha risultato Positivo al covid-19 O è in quarantena In modo precauzionale Il servizio tuttora attivo Riguarda mille persone È ripartita poi L'attività interrotta All'otto marzo scorso Che riguarda il verde pubblico Il piano dei lavori Viene programmato Di settimana in settimana Siamo rimasti con Tutte le potature Che dovevano essere fatte Nel mese di marzo Che non le abbiamo potute fare Perché poi lì c'è un termine di legge Che è il 31 marzo Quindi le riprenderemo Praticamente a novembre Per quanto riguarda invece Il taglio dell'erba Abbiamo iniziato la settimana scorsa Tutte le settimane abbiamo in programma Abbiamo iniziato con la parte del mare Con le piste ciclabili Con ad esempio I vari giardini Tipo il giardino Leopardi Con l'interquartieri E per quanto riguarda Questa settimana abbiamo Torretta Abbiamo tutta la parte di Centinaroli Abbiamo altre zone Insomma che faremo di volta in volta Il piano, spiega il Presidente Prevede interventi Nelle principali zone turistiche Della città Fino ad arrivare Mano a mano In periferia Sicuramente Siamo in una fase Abbastanza pesantina Per quanto riguarda gli interventi Perché il fatto Di non aver fatto tagli Fino ai primi di maggio Con le temperature Che ci sono state Un po' di acqua Che c'è stata Una cosa o un'altra Ha chiaramente In gigantito un po' il problema Però Ci stiamo praticamente riprendendo Quindi abbiamo in previsione Che per Tra dieci giorni Di aver tutto A regime Come esattamente Era a regime un anno fa Abbiamo avuto diverse segnalazioni Per i passeggi Lì avete già Che questa settimana Guarda Per i passeggi Abbiamo l'intervento Questa settimana Il taglio dei passeggi Anche perché I parchi C'era questa problematica Che per un po' Erano chiusi Quindi Era difficile anche ragionare In questi termini Adesso con la riapertura Questa settimana Il presidente Reginelli Ha poi risposto Ai tanti cittadini Che stanno chiedendo Di poter usufruire Del servizio Dedicato ai rifiuti ingombranti Nel giro di 48 ore Sono arrivate Circa 200 e-mail E' stato deciso Quindi di sospendere Per alcuni giorni Questa modalità Di prenotazione Fino a che Aset Non riuscirà A smaltire Tutte le richieste Già pervenute Agli uffici Questo riposo forzato Nelle famiglie Molte volte Ha Cagionato Magari Che ne so Rimettere a posto Il garage La cantina Quindi Scoprire che ci sono Delle cose Che non servono Poi così tanto E quindi Ci aspettevamo Una risposta del genere Non con questi termini Però insomma C'è stata Quindi da una parte Siamo contenti Perché c'è questa mentalità Comunque di non disperdere Delle cose Che praticamente Potrebbero subire Una destinazione Completamente diversa E quindi Seguire le norme Ci stiamo attrezzando Quindi anche su questo Risolveremo il problema breve E i servizi educativi Del Comune di Fano Informano che Dal 18 al 31 maggio Saranno aperte Le iscrizioni Ai servizi Rivolte alla prima infanzia Per le bambine e bambini Che da inizio anno scolastico 2020-2021 Avranno una compresa Tra i 3 e 32 mesi La domanda di iscrizione E la consultazione Dei servizi attivi Sul territorio comunale Potrà essere Consultabile Sul sito internet Del Comune di Fano Che vedete In sovraimpressione E con questo Chiudiamo qui La nostra edizione Del telegiornale Grazie per averci seguito Ci vediamo domani mattina Alle 7.45 in diretta Con la rassegna stampa Occhio ai giornali Arrivederci Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito